L'edizione 2020 più 1, eccola qua, riparte la mezza maratona organizzata dalla UISP. Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, Firenze saluta il ritorno della classica della corsa su strada che vede da sempre professionisti e appassionati di running correre tra le bellezze del rinascimento. La partenza è avvenuta alle ore 9.30 da Piazza Santa Croce con starter, l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione. L'obiettivo di quest'anno è quello di ripartenza perché i numeri non sono quelli di sempre. Non abbiamo 5.500 iscritti del 2019, ne abbiamo circa 2.000, però è il segnale che volevamo dare sia alla città ma anche al mondo dello sport, quindi ripartire in sicurezza. Tra i partecipanti anche le donne in rosa per onorare la manifestazione che ogni anno la Onlus organizza in ottobre, mese internazionale per la prevenzione del tumore al seno. La Firenze in rosa per le donne sono state operate al seno e che hanno lottato con tutte loro stesse, con una forza immensa per uscirne e per uscirne vittoriose.